Giromo Savonarola è stato un frate domenicano, predicatore e politico italiano, nato a Ferrara nel 1452 e morto a Firenze nel 1498. È una figura controversa, che ha suscitato ammirazione e sdegno nel corso dei secoli. Savonarola nacque in una famiglia di medici e avvocati. Fin da giovane fu un ragazzo devoto e religioso, e si dedicò allo studio della Bibbia e della teologia. Nel 1475 entrò nell'ordine domenicano e iniziò a predicare nelle chiese di Ferrara. Nel 1482, Savonarola fu trasferito a Firenze, dove iniziò a predicare contro la corruzione della chiesa e del governo della città. Le sue prediche erano appassionate e coinvolgenti, e attiravano folle sempre più numerose. Savonarola accusava la chiesa di aver abbandonato i suoi principi originali, e di essere un po' diventata un'istituzione corrotta e decadente. Chiedeva una riforma radicale della chiesa, che tornasse ai valori della semplicità e della povertà. Savonarola criticava anche il governo di Firenze, che era controllato dalla famiglia medici. Accusava i medici di essere avidi e di aver arricchito se stessi a scapito del popolo. Nel 1494, l'esercito francese di Carlo VIII invase l'Italia. La caduta dei medici fu vista da Savonarola come un segno della volontà di Dio. Il frate Domenicano fu nominato priore della Basilica di San Marco, e iniziò a governare la città in nome del popolo. Savonarola instaurò un regime teocratico, basato sui principi della religione e della morale. Proibì il gioco d'azzardo, la prostituzione e la lettura di libri considerati immorali. Organizzò anche una grande cerimonia di purificazione, in cui i fiorentini furono invitati a bruciare i loro oggetti di vanità. Il regime di Savonarola fu però breve. Nel 1498, i medici furono restaurati al potere con l'aiuto di Papa Alessandro VI. Questo. Savonarola fu arrestato e accusato di eresia. Fu condannato a morte e bruciato sul rogo in piazza della Signoria. La figura di Savonarola è ancora oggi oggetto di dibattito. Alcuni lo considerano un profeta scomodo, che ha cercato di riformare la Chiesa e la società italiana. Altri lo considerano un fanatico religioso, che ha cercato di imporre la sua visione del mondo con la forza. Indipendentemente dalle sue convinzioni, Savonarola è stata una figura importante nella storia italiana. Le sue prediche hanno contribuito a diffondere l'idea di un rinnovamento religioso e morale, che ha avuto un impatto profondo sulla società italiana. Eredità di Savonarola L'eredità di Savonarola è complessa e contraddittoria. Da un lato, il suo messaggio di moralità e di rinnovamento religioso ha avuto un impatto duraturo sulla società italiana. Dall'altro lato, il suo regime teocratico è stato visto da molti come un esempio di autoritarismo religioso. Savonarola è stato un precursore del movimento protestante, e le sue idee hanno influenzato la riforma protestante in Germania. Le sue prediche hanno anche contribuito a diffondere il concetto di puritanesimo, che ha avuto un ruolo importante nella storia dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. In Italia, l'eredità di Savonarola è ancora oggi presente nella cultura popolare. La sua figura è stata rappresentata in numerosi dipinti, opere teatrali e romanzi. Il suo nome è stato utilizzato per indicare persone che predicano la moralità e il rinnovamento sociale. Conclusione Girolamo Savonarola è una figura affascinante e controversa. La sua vita e le sue opere sono ancora oggi oggetto di studi e di dibattiti. La sua eredità è complessa e contraddittoria, ma è innegabile che sia stata una figura importante nella storia italiana e europea. Grazie a tutti.